e ancora buongiorno a tutti amici ed amiche volevo fare un breve video anche per il caso di Alice Neri perché mi stanno venendo dei dubbi dei forti dubbi ma non sul caso forse su me stesso e sulla mia capacità di valutazione mi spiego meglio è cronaca di questi giorni che finalmente diciamo ci sia stata la richiesta di scriviazione delle posizioni sia di Nicola Senegrini che di Marco Cucui in particolare la soddisfazione ovviamente per Nicola Senegrini che nella sua doppia qualità di diciamo marito e papà di questa bambina che ovviamente vedeva in qualche modo macchiata diciamo la sua immagine da questa iscrizione nel registro degli indagati e fin qui va tutto bene come pure può essere accolto con piacere pure per quanto riguarda Marco Cucui anche se lui adesso passa in un altro ruolo cioè da questa persona iscritta nel registro degli indagati a persona informata dei fatti e in quanto tale certamente non potrà più insistere nel dire c'è qualcosa di importante io non voglio dire mi avvalgo della facoltà di non rispondere che non è riconosciuta a persone informate dei fatti che non rispondendo si mettono poi in una cattiva luce poi non si sa né non si è mai capito il pesche di questa reticenza e fin qua tutto bene però al mio modo di vedere per quello che io ho valutato per quello che ho visto e le indagini stanno un po' così cioè la situazione io la vedo nebulosa non vedo in alcun modo che si sia fatta maggiore chiarezza nella nella dinamica in quello che è successo soprattutto alla luce di ciò che man mano sta venendo fuori in relazione a questa persona questo tunisino che sta in carcere ma evidentemente c'è chi valuta diversamente e alla fortuna di scrivere anche per per quotidiani a livello nazionale come il giornale io stamattina leggevo nella mia rassegna stampa il giornale questo articolo a firma di giovanni fiorentino un pubblicista trentenne che scrive qualcosa che mi sembra di leggere qualcosa che va al di là di una realtà per come io riesco in qualche modo a capire perché dice dopo l'archiviazione per nicolas negrini e marco cucui il cerchio si stringe ulteriormente intorno al ventinovenne tunisino muhammed galù come se questa archiviazione per questi due soggetti avesse come conseguenze immediata lo stringimento ulteriore del cerchio attorno a questo galù è un automatismo che mi sfugge poi riporta delle parole del procuratore che dice a carico dell'indagato si sono successivamente aggiunte concordanti e plurime risultanze degli incidenti probatori che ancora non sono stati formalizzati comunque che hanno rafforzato il quadro indiziario a carico del tunisino ora pieno rispetto assoluto anche per il procuratore però per lo meno a quello che è dato di sapere a me questo non 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 si evidenzia ma il giornalista del giornale continua di suo spunto e dice quello che si sa è che il tunisino lasciò l'italia subito dopo la tragedia facendo una vera una vera e propria fuga tanto è vera che si trova ancora in caccia allora vedete si mischia anche cose vere con cose non vere perché che si debba catalogare come fuga quello del galù si può valutare non non sa a me dire questo ma dire un dato fattuale che lasciò immediatamente subito l'italia dopo la tragedia è un fatto che non corrisponde a verità visto che si allontanò dopo otto giorni allora cosa si doveva dire di quell'altro mohamed il marocchino che immediatamente andò in marocco che era stata una fuga lampo quindi c'è una sorta di impostazione che mi fa avere dei dubbi sul fatto che io stia valutando qualcosa che mi sfugge perché la relazione fra la schiviazione per il marito nicolas e cucui che rappresenta un aggravamento per il tunisino come se fosse un peso che prima postavano diviso in tre adesso rimane in capo a uno solo ora questa sorta di aggravamento che si dice si scrive e poi quando si scriva lo leggono gli utenti io non riesco a vedere perché perché la via forella veniva indicato come luogo dove era avvenuto l'omicidio e sembra che sia si sia andando verso l'esclusione di questa dinamica per tanti elementi va bene la sigaretta il fatto che il sedile era sotto al volante nella posizione in cui lo teneva solitamente alice quindi c'è una presenza ai laghetti anche per quanto riguarda la spallina del giseno lì rinvenuta quindi già questo fatto della della morte quindi e quindi del raptus che chissà per chi avrebbe avuto il tunisino a via forella penso che non ci sia poi viene fuori che è stata usata questa benzina per appiccare incendio partendo dal lato posteriore quindi dove stava proprio il cadavere ma questa benzina da dove esce visto che nessuna traccia di benzina sta sul borsello del galù non c'è nessuna traccia e allora com'è questo aggravamento non si sa nemmeno l'orario dell'incendio poi alla fine perché se qualcuno è stato escluso da questi dubbi era per via dell'orario ma ci sono più di 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 un dubbio ma molti dubbi sull'orario di questo incendio perché ci sono anche degli studi che ho visto tecnici che ricondugono addirittura l'incendio almeno alle 17 17 30 ma poi volendo ricondurre responsabilità certate sul tunisino quantomeno ci si dovrebbe presupposte un contatto telefonico con complici insomma per portare quest'auto lì per ai laghetti non c'è nessun contatto telefonico in quella notte per chiamare o altro poi c'è la stranezza che non sono state trovate nelle chiavi dell'autovettura nel cellulare quindi cellulare di alice sparito dopo aver fatto non solo respinto le telefonate ma aver fatto tante cancellazioni fra cui anche il famoso messaggio ciao marocchino mandato al cuccui quindi chi poteva avere interesse a postare via il cellulare a cancellare tante cose da esso quindi perfino la latanica dell'oro esausto che forse sembra sia stato usato in un secondo momento dopo l'attivazione con la benzina ma è un dato che diventa neutro perché era stato detto forse ci sta la traccia riconducibile al galul e dopo quei filmati in cui si vedeva la famosa festa tunisina già questo dato era neutro ma oltretutto adesso si dice che questa traccia non è riconducibile sicuramente al galul perché potrebbe essere attribuibile a chiunque visto che i marcatori che sono stati individuati sono soltanto 10 su 23 e non permettono alcun tipo di comparazione quindi il voler dire che il cerchio si stringe ancora ulteriormente significa per quello che io so per quel poco che io so che evidentemente io non ho un modo giusto di valutare e che tante cose io non riesco né a capirle e né a saperle soprattutto quindi è uno status quo incredibile perché poi dovunque dovunque non leggo mai un riferimento a quell'unica persona che era super presente nella vita di alice che non si può dire non solo non si dire il nome non solo non si può dire il nome ma non si può dire nemmeno il terzo uomo perché altrimenti si dice come mai proprio quello lasciatelo perdere ma era una persona che era iper presente nella vita non di questa ragazza con messaggi regali sapete lettere tutte quelle che ci siamo dette opprimente pressante ossessionate tutto ma solo ed esclusivamente fino al pomeriggio del 17 novembre dopodiché nessun contatto non si cerca non si vede nessun appuntamento non si cerca si cancella tutto perfino il numero di telecom come se non fosse mai mai esistita è una combinazione che ovviamente secondo il mio modo di vedere è stranissima ma evidentemente a me qualcosa sfugge quindi veramente leggendo questi articoli mi viene da dire che forse io non riesco a capire qualcosa veramente non riesco più a valutare una serata quella una nottata una serata quella del 18 tra il 17 e 18 di novembre particolare compulsa forse quella notte Alice non voleva tornare a casa forse era andata posso pensare io ai laghetti non voleva voleva dare una svolta alla sua vita voleva cambiare definitivamente qualcosa e questa svolta forse non era condivisa questo però non si dice non si pensa non si scrive sembra addirittura che quello che è trapelato dagli incidenti probatori che io non vedo affatto contro l'attuale indagato ma e allora e allora vuol dire che non riesco a capire nulla di questo caso ora il 4 luglio si attende il 4 luglio per il deposito completo di tutte queste incidenti probatori e e allora quando dopo il 4 luglio emergerà secondo secondo me qualcosa di clamoroso per cui si troverà imputato diciamo un soggetto contro cui apparentemente non c'è alcun tipo di prova però si dirà evidentemente che io non riesco a capire nulla di quanto leggo per cui evidentemente ci saranno degli elementi che invece sono valutati diversamente e quindi verrà mandato a processo questo questo tunisino è e non si dovrà scrivere nemmeno in ipotesi del terzo uomo non bisogna parlare mai più perché è una persona che c'è famiglia che potrebbe essere linciato a morte proprio da 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 coloro che gli stanno attorno quindi assolutamente non diciamo parliamo a gesti non pronunciamo nemmeno il nominato il nominato il nominato niente e va bene e quindi vedremo poi in un'aula di tribunale se effettivamente sono così probanti questi chiamiamoli indizi e questo è il dubbio che volevo condividere con voi che almeno su questo caso credo di non averci capito nulla leggendo gli altri osgani di informazione grazie amici miei condividete il video seguitemi sempre e un abbraccio a tutti quanti voi